Ciao ragazzi benvenuti in questo video in cui siamo con il terzo episodio con la carriera di Trapani oggi andiamo a giocare con il Pescara e oggi andiamo a giocare con il Pescara scusate sono andata verso il primo giorno non è zero e ho comprato il tagliato dell'asco quindi iniziamo subito ma preparate, dove esce la stecchetta? belle buone sto a mangiare, mi sa ne? ma direi, io non lo faccio, direi che io non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio ma non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio mi sono martin sbaglio, mi sono pescara riparte zitto sto facendo un video un fottuto video eh posso fare così? scusa lui che non ha un abbraccio non ci vede il Trapani che è scarsa con la mia abbraccia zitto tu non sai il calcio si lo so meglio di te ragazzi il prossimo video di calcio stiamo facendo video di calcio non lo faccio se è scmamà se 260 ma tanto istorazno ma tanto istorazno mi 마음i ma tanto istorazno su 2 e questo mio è collaborato da controllo se itu l'e ordina nell'EP sen che Buon 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 No, non è vero, non è vero, non è vero. Andiamoci Luca parla un po' Sanità russo, sanità, coperti ricchi Cazzo sembra Un tre parolacce Luci Rizzo No aspetta Nella lista prestiti Metti quelli là più giù Ora c'è la Coppa Italia Ragazzi contro il Virtus.entera Speriamo di vincere Ragazzi qua abbiamo perso Un'altra partita dopo fila contro il Pescara Una dopo di fila Dobbiamo migliorare assolutamente Troiano Gamani, Bettinari, Tulli Ci serve un attacco Da Mus Che ci possa aiutare Mettiamo ad allenarci Andrea Manni Centro campo Tug Tug Questo francese Difensore Spera 4 Fa schifo Giù Ha un silva Portire i carnicetti Spera 4 questo fa schifo E ti va ad allenare pure Quelli più scarsi Cioè quelli con la rotazione più bassa Posso parlare? Zitto Non ci sono consigli Golfa Questi attaccanti ci servono Perché no Questo che non mi vuoi E me li parlo L'upperini Colpani 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 non lo utilizziamo mai Se lo vendiamo addio colpani 2 milioni Plata rimane 2 silva rimane Calza Canino E due calza 3 milioni Quindi abbiamo Ci bastano per prenderci Uno del Abilato Il buo junior Tutti dove vuoi? Trudi Tunci Rosso Volendo per riprendere Tunci Luci Morri fare una cosa Virtuzione Centella Andare in campionata Penere Tu ti posso dire? Tu ti posso dire? Centella Lucca 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 Angelo E' un lavoro E' un giro Mi faccio Dir E' un giro Mi faccio Ben Dimmi Immazione Michele Guarda ragazzi, prima di andare alla squadra è un tiro Questo è il gioco di tiro Perciò la cabina E ora potete aprire i medici Pescara, guardate qua la partita ragazzi, tutti i gol mangiati Spero che si risolverà Se ritorneremo a vincere Non c'è che s'agg Schwab Non c'è nessuna Ma non c'è nessuna Ma non c'è nessuna Ma non c'è nessuna Ma non c'è nessuna Di certo Grazie andiamo a tomci come dire io prendo la tomci forza indescrivita mi tiene il porto un po' c'è qua ragazzi e quindi ragazzi sicuramente questo video quindi ragazzi che dire non ci diamo non ci diamo con un passo di episodio grazie a tutti